Ciao ragazze, buongiorno a tutte e benvenute in un nuovo video. Eccomi tornata con un video spacchettamento, in realtà super spacchettamento. Oggi ve ne registrerò ben due, perché appunto ho fatto un bel po' di ordini da varie aziende e volevo mostrarvi il contenuto, visto che comunque mi chiedete sempre che prodotti utilizzo, che prodotti acquisto da quale azienda e non. Quindi vi sto mostrando un pochettino i pacchi che mi sono arrivati oggi. Ancora ne aspetto un altro, infatti ve lo registrerò insieme ad un altro pacco. Io in questo video vi farò vedere Passione Unghe Gold Nail. È una chicchetta utile che ho scoperto da poco, me la levo subito che vi mostro. Allora, vi volevo mostrare appunto questa azienda qui, www.iguanti.it è un'azienda appunto, come dice il nome, che vende solamente guanti. Io cercavo disperatamente dei guanti rosa, comunque colorati, che non siano azzurri o neri, perché ultimamente le ho acquistate azzurri, ma non mi piacevano. E quindi ho trovato questo sito qui, vi faccio vedere, dove ho acquistato ben quattro pacchi di questi guanti qui, che sono dei guanti nitrile, colorazione viola, purple, misura S. Quindi ne ho presi quattro pacchi, perché già altri ne ho, e ho pagato in totale 25,50 euro. Vi faccio vedere. Allora, vi faccio vedere qui lo scontrino. Ho anche la bolla stesso. Aspettate che... Vi faccio vedere lo scontrino, perché qui danno appunto lo scontrino. Allora, è venuto in totale 25,50 euro, compresa la spedizione. Quindi, praticamente a pacco, vengono tipo sulle 3,49 euro, 4 euro massimo. Sono degli ottimi... No, sì, sì, giusto, vengono sì, sulle 3,99 euro. Sono degli ottimi guanti, io li ho già provati, ve li consiglio assolutamente. Quindi, ecco, Onico Tecnica all'ascolto, colleghe all'ascolto, hanno un ottimo prezzo, sono ottimi. Quindi, ve li consiglio. Mi è arrivata la mia scorta di altri quattro pacchi, quindi ho voglia per un bel po' di tempo. Poi, questo ieri, ieri pomeriggio, mi è arrivato un pacco da Passione Unghia. Ho ordinato veramente due sciocchezze precise, tanto perché mi servivano. Ho ordinato di nuovo i preparatori, perché mi stavano terminando, quindi ho preso la scorta nel prep e binder. Poi ho preso un black extra, questo non l'ho mai provato, però mi hanno detto che è veramente buono come prodotto. È dell'SP135 ed è il nero classico. Mi era terminato il nero in semi permanente, così fatto a boccette, quindi l'ho voluto riprendere di passione. Vedremo un pochettino, ancora non l'ho utilizzato, quindi vedrò un attimino, vi farò sapere. Poi ho preso, hanno messo come novità questo qua, questo poggiapennelli, appunto voi avete il pennello così, mentre state lavorando lo poggiate così non sporca il tavolo. Era carino, costava veramente poco, forse 1,50 euro, quindi l'ho voluto prendere, è veramente piccolino, ci sono giusto 5 scomparti, però è utile, io ho già l'ho utilizzato, mi sono trovata bene. Come ultimo, ma non per importanza, ho ripreso il mio Acryl Gel Natural Beige, sapete che io, questo è appunto ancora chiuso, però vi faccio vedere quello che ho ancora aperto. Sapete che io di Passione Unghie acquisto solamente gli Acryl Gel e i preparatori, giusto queste 4 cosine così, però devo dire che con gli Acryl Gel di Passione mi trovo veramente bene. E quelli che acquisto sempre sono solo questi due, Natural Beige e il Cipria, ah scusate, anche il bianco, però il bianco lo acquisto più sporadicamente perché mi serve, ce lo uso solamente solo per fare o coperture color latte oppure il Baby Boomer, questo per esempio è il mio must per il Baby Boomer. E il Baby Boomer con questi due prodotti viene una meraviglia, con il Cipria e il bianco. Però comunque, a prescindere da questo, ho acquistato appunto lui, che è l'Acryl Gel Natural Beige, mi trovo da Dio, è un ottimo prodotto, ha una colorazione veramente bella. Eccola qui, ve la faccio vedere, appunto è un beggiolino chiaro. Niente da dire a questo prodotto, ve lo consiglio. E quindi ho voluto prendere questo qua. Poi, ultimo pacchettino, ma non per importanza, veramente ho preso ragazze due cose precise di ogni azienda perché sono appunto i prodotti che proprio utilizzo sempre e che non possono mai mancare nella mia postazione. Tra cui appunto questo pacchettino di Golden Ale. Mi chiedete ormai da tempo, sempre, 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 anche in live su TikTok, quale lucido io utilizzassi. Per me, il lucido per eccellenza che acquisterò sempre e che mi piace tantissimo, è il Flexi Gel di Golden Ale. Allora, ad oggi mi trovo, vi faccio un po' di zoom, mi trovo in formato 10ml, però di solito Golden Ale ha la versione di 15ml di questo lucido, che è appunto il Flexi Gel Extra Glossy. Non era disponibile, ma siccome ho l'ultima boccetta di scorta, io già quando ho l'ultima boccetta di scorta mi sento male, ho voluto fare un'altra scorta e ne ho presi ben 4. Ha un prezzo veramente basso, perché vengono questi da 10, vengono 9,99€ l'1, ma questo da 15, 12,99€. Quindi vedete che comunque a livello di qualità prezzo, cioè di convenienza, prezzo conviene più il 15, però non era disponibile. Quindi ho voluto prendere 4 da 10, ma è lo stesso identico prodotto, appunto il mio sigillante per eccellenza. Io ve lo straconsiglio, se non l'avete ancora provato, provatelo perché ne varrà la pena. È sempre di Golden Ale, che io mi trovo da Dio, è anche il sigillante top matte, quindi se cercate anche un buon opaco, lui è fantastico. E quindi ragazze, scorta di lucidi fatta, quindi già per un bel po' sono a posto. Poi dovevo raggiungere le spese di spedizione e quindi ho voluto prendere giusto due cosine per raggiungere le spese di spedizione gratuite. Ho preso un bianco per lo stesso principio per il quale ho preso il nero di passione, solo che su passione non era disponibile il bianco. E quindi ho voluto prendere un semi bianco classico, questo sai per i refill da salone, qualcuno che mi chiede un bianco gesso monocolore, l'ho voluto prendere. Poi ho voluto prendere pure una polverina, delle scagliette, perché? Perché mi sono accorta che ho carenza di scagliette viola, proprio viola, viola, viola. Quindi ho voluto prendere questi qua che sono praticamente delle scagliette flakes, guardate che spettacolo. Io non so cosa rende dalla videocamera, ma sono pazzesche. Certo, non ce ne sono molte dentro, però sono carine, ecco, quindi le ho volute prendere. Queste in realtà sono venute anche un pochettino, che effettivamente, data la qualità, cioè, non qualità prezzo, prodotto, grammatura, che c'è dentro il prezzo, perché vengono, se non sbaglio, 7-8 euro, però io le ho pagate scontate. Comunque, non ci valgono, quindi non ve le consiglio in realtà. E niente, questo era il mio bottino di oggi, ragazze. Un bottino molto piccolo, ma consistente. Però vi ho voluti rendere partecipi di queste scorte, più che altro, perché qui stiamo parlando di prodotti che sono le mie scorte, che acquisto sempre, 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 sempre. Quindi, ragazze, io vi vado a registrare l'altro video ancora di un'altra azienda molto carina, quindi, se siete curiose, aspettate comunque che esce anche quel video. E niente, io vi aspetto ovviamente su Instagram, vi invito a seguirmi, sempre Martina Carpino Nails, vi lascio comunque i contatti qui sopra, e anche su TikTok, perché spesso e volentieri, appunto, faccio delle live. Per esempio, ne ho fatta una ieri sera, mi avete fatto compagnia in tante, vi ringrazio a tutte. E niente, ragazze, vi auguro una buona giornata e al prossimo video. Ciao!